Telino Fleck Tarn reversibile, telino originale ex Bundeswehr, questo telino ha un tessuto particolarmente resistente, tutto bordato, con cordellino interno per chissarlo l'elmetto tramite cordino che poi verrà saldamente legato, notiamo che ha delle strisce cucite molto saldamente, la sua longitudinalmente e per tutta la circonferenza dell'elmetto queste strisce sono passanti, poiché possono essere utilizzate per sistemare il materiale mimetico tipo o fogliame che trovate sul posto, oppure dei fili illi appositamente costruiti come dicevamo questo telino è reversibile in quanto è stato studiato appositamente per evitare l'utilizzo di un doppio telino e allora rigirandolo vediamo che dall'altra parte troviamo un telino bianco da neve in modo che con lo stesso telino è possibile avere un utilizzo ottimale sia su terreni innevati che su terreni continentali tradizionali. La forma sostanzialmente non cambia ma perdiamo ovviamente tutte le strisce per i materiali di mimetizzazione in quanto sulla neve in genere non vengono utilizzati. Rovesciando il telino troviamo anche l'attagliamento, la taglia è posta sul retro nella parte bianca del telino, in questo caso abbiamo 55-57. che è stato un retro per i materiali che suorziato sia un'altro che puòля 76, 4, 3, 3, 1,2,5, 5, 6, 180, 5, 1,2,5, 5, 6, 1,2,5, 6, 1,3,2,6, 2,6, 6, 1,2,6, 1,2,3,6, 5, 3,6, 1,6, 1,5,7, 2,6, 5,8, 1,2,5, 1,3,4, 6, 1,2,5, 3,7, 1,3,1,5, 1,5,4, 1,5,2, 1,7, 1,2,5, 1,4, 1,5,5, 3,7, 2,1,5, 1,6, 1,2,1, 1,5,2, 1,2,1,2, 1,2,1, 1,5,